Signor Ref, ti ho appena portato un player che da quello che mi ha detto ha letteralmente Lamebot, zio Allora, io non so se è possibile questa cosa, ma grazie di avermelo portato ci buttiamo in partita e lo testiamo Ok, allora, io un attimo già l'ho guardato e ti assicuro che la mira è migliore della mia e ce ne vuole Cioè, oddio, non sono un giocatore scarso, lo sai, e ora parliamo seriamente Ha letteralmente, cioè, mi ha distrutto a livello di mira, ok? Lo devo dire, lo devo ammettere Vedremo, vedremo in partita ragazzi se è effettivamente Lamebot Voi intanto scrivetelo qua sotto nei commenti e mi raccomando sempre codice Ref e ora buttiamoci in game Allora ragazzi, siamo effettivamente adesso in partita e abbiamo qua il nostro tatatatata Azzo e il nostro Ferro Che, vabbè, Ferro tu giocherai, io mi muoio e vi spectro al volo, ok? Ok, io ti dico solo che sto giocando letteralmente da un'ora per allenarmi così che almeno potrò avere un'ottima mira e battere finalmente Azzo Se tu mi batti uno che dovrebbe avere il Lamebot, ti faccio i complimenti e ti vengo anche a prendere la casa per darti un bacino sulla guancia Guarda, onestamente io ci tengo a sottolineare una cosa, io spero che non l'abbia veramente Lamebot Perché se no sarebbe da bandare e saremo d'accordo tutti, sbaglio Esattamente, siamo tutti d'accordo Comunque Ferro, sono dietro di te, ho un'arma per te e ho anche degli scildini per te, baby Ma tu dammi i scildi, tu devi stare Ammazza, mi hanno ammazzato, finalmente mi hanno ammazzato Ok, ora inizio a aspettare sia te che Azzo, ragazzo mio, eh Ti dico subito che c'hai già qua il primo nemico, Ferro Ok, ok, io una chilo fatta C'è un team intero da te, frate, aiuto Ok, io ne ho chilati due Perfetto, per ora non ho missato letteralmente un colpo Azzo invece come ha messo? C'è Azzo che sta fightando, ne ha già ucciso uno pure Azzo, signori, attenzione Non so se ha l'Ambot oppure no, perché comunque per adesso non ha ancora sbagliato nemmeno lui un colpo Ti posso dire L'hanno fatto esplodere L'hanno fatto esplodere Ma come l'hanno fatto esplodere? Azzo frate, ma che stai a dire? Vabbè, io ti ricordo una cosa, aimbot non significa immortale, di conseguenza lo resto veloce e vediamo se letteralmente ce l'ho pure, scherzo Ah, questo qua è pure scappato Ma meglio così, meglio così, tanto a me non mi interessa fightare, io voglio soltanto rebuttare il bro con l'Ambot Esatto, vami a rebuttare il nostro Azzo che almeno riusciamo a controllare se effettivamente è lui con l'Ambot oppure no Tu continua, tu continua, non ti fermare mai Aiuto Tu continua, non ti ferma Aiuto Fratelli, è tornato in vita anche il nostro Azzo e vabbè c'è Ferro che Oh mio Dio, ti hanno distrutto frate No, 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 io l'ho distrutto, ne ho ucciso uno già Mi sparo mentre sto in volo, regà, non mi ammazzate, porco due Ma come, fatti killare al contrario, scusa Eh, effettivamente sì, oddio, Azzo ne ha ucciso uno davanti a me con la pistolina, fra Non ho visto quella pistolina Non ho visto se ha sbagliato colpi, ma ne ha ucciso uno davanti a me con la pistolina, te lo giuro Vedo Azzo che sta sparando, Ferro, io non so se sta prendendo l'agente oppure no, capito? Ok, non lo possiamo sapere, intanto sta facendo un suo giù assurdo, tipo da pro player Allora, fermo, vai vicino al benzinale con te, devi esplodere per andare a spettarlo Io non c'è più, ero per farmi esplodere E Azzo l'ha ucciso uno Oh, l'ha ucciso Azzo l'ha ucciso uno Ma perché non posso vederlo? Perché non posso, Ferro? Ma sta busciando tutti Ma l'ha ucciso un altro No, 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 tu non hai capito, tu non l'hai visto L'ha demolito, non l'ha killato questo, l'ha distrutto C'è uno dietro, c'è uno dietro di qua, ragazzi, uno dietro di qua, giuro, giuro da me, giuro da me Ok, ok, arriviamo Ragazzi, io mi sto mangiando le mani Eccolo da in fondo Ragazzi, Azzo lo sta già busciando Azzo lo sta già busciando Oh, oh, l'ha hitato, vecchio l'ha hitato, eh Non ha sbagliato Cosa c'è? Oh, oh, ha fatto un movimento strano, eh No, no, ti giuro, ha fatto un movimento stranissimo, te lo giuro Eh, lo so, guarda che fa dei movimenti veramente strani Ma io, allora, io te lo voglio dire molto onestamente Mi fa strano che più che altro sia forte anche a giocare Ok E questo mi fa strano che, cioè, di solito i giocatori con le in bot sono anche scarsi, no? Oh, oh, oh Lui è anche bravo Ok, ok, non ha missato un colpo Non ha missato una hit qua, eh, ragazzi No, più che altro io vorrei capire una cosa Perché sta busciando che ha pochissima vita, ok? Non ha sbagliato un altro colpo Ok E poi c'è il combat C'è il combat, c'è tutto C'è la minigun Allora, qui la minigun è proprio l'arma da aimbot, ok? No way, no way No, non è vero Non è vero Non è vero che l'hai hitato così Non è vero che l'hai hitato così Non è vero, ragazzi E quindi adesso che siamo belli carichi e belli curati Almeno che siete belli carichi e belli curati Perché io non sto giocando comunque È il momento, ragazzi, di andare a pushare di nuovo Perché va bene fare delle kill all'inizio game Ma non bastano, giusto? Esatto Confermo pienamente e nulla Andiamo a pushare Tra l'altro io stavo aspettando ferro Ma è il caso che io torni a aspettare Azzo Che tra l'altro ha trovato pure un Jag Jag ferro Quindi direi che il nostro ragazzo ha le potenzialità per andare a pushare in questo momento Oh, porca paletta, mi sparano Aiuto Allora, ragazzi, potrebbe partire un altro fight Azzo non ha il rampino Quindi non ti può raggiungere così in fretta Te lo dico, ferro Però in compensa un Rift to Go Attenzione, ok L'hai hitato Oddio Ok, ok, ti posso dire che gli ha tirato Non ha sbagliato un colpo ancora di questa mitaglietta Ok Ora l'ha sbagliato? No, non ha ancora sbagliato Non ha sbagliato ancora un colpo Ditemi o no se questo è o no l'embot, ragazzi Ditemelo voi Dai, non almeno l'ha sbagliato, ragazzi No, non ha sbagliato un colpo Stai scherzando Non sto scherzando, fra Sai cosa devo dire? Non ha sbagliato un colpo, zero Eh, io te lo dico In realtà io ti sto dicendo che stai scherzando Però effettivamente Me l'hai portato tu, tra l'altro Esatto, letteralmente è quello che faceva con me Dio, ci sta gente da me Oh mio Dio, oh mio Dio Ok, dove? Stanno qua davanti No No Cosa ha fatto? No Oddio Allora, allora Dov'è esattamente la gente? Eh, precisamente quella a me Sotto di me Precisamente Qua da me adesso Stai scherzando In quella direzione, ok? Stai scherzando Ad altezza uomo Mettiamola così Stai scherzando Ok, ha già fatto un altro kill Non è vero Non è vero Io voglio capire sta cosa Io ho sentito dei colpi Ma veramente gli stava sparando Guarda che ha fallisemente il coso Sì, ma da dietro Ma da dietro Non è vero No, non è vero Che ha fatto? Fra te Non ho capito Ha sparato uno da dietro un muro Non era Era lontano Era fuori dalla casa Lui li ha sparato da dietro la casa Lui era fuori dalla casa Capito? Oddio, oddio Sta cosa mi fa sempre più paura Eh, beh, che ho L'hai portato tu questo, eh Non so Eh, sì, ok Però ribadisco Io non lo so Era ancora una cosa che Non sapevo se avesse lanebot Oppure no Cioè, lo stavo cercando di capire Oltre lanebot Cioè, di solito Chi ha lanebot Ok, lo usa Perché è un po' scarsino Giusto su Fortnite È quello Ma lui è forte Non riesco a capire Lui è forte Cioè, questa è la sua forza O è che usa lanebot Oppure, appunto, è talmente forte Da far sembrare che lo usa Cioè, sai che non riesco a sapere Sta roba? Allora, io ti dico Comunque, letteralmente È davvero il tipo L'80-90% Di colpi presi Quindi Non sto scherzando Ce ne ha veramente, eh Cioè, davvero Eh, no, esatto Dico, se non avesse lanebot C'è un problema Di fondo che è troppo forte Devi volare da lui Sta pusciando un team intero Devi volare da lui, fra Devi volare da lui Adesso Ok Oh, porca paletta Uno l'ha gostittato Ma l'ha preso, raga Ok No way No way da lui Ok, qua avrei stato il suo primo colpo Ragazzi, della partita, eh Ok, allora Ferro, ci sei? Sì, sono con lui Perfetto Ok, l'hanno pusciato L'ha distrutto ancora prima che arrivasse Brute hit che gli è andato No way Uncidò uno Bravissimo Ferro Allora, ti dico solamente Che anche qua ha fatto già Delle belle hit, eh Attenzione Io fossi lui Mi farei degli scildini Prima di pusciare questo, esatto Allora, ragazzi È tutto in mano vostra Tra l'altro potete anche sparare Le 20 bombe Se siete abbastanza bravi da farlo, eh Eh, sì, potremmo tranquillamente farcela Ragazzi, ma come ha fatto a prenderlo? Ma come ha fatto a prenderlo? Ma come ha fatto? Ci stava in mezzo un muro, una scala Lui è saltato e l'ha preso Ma che cosa? Che senso ha, Ferro? Che senso ha? Allora, non so che senso abbia L'unico senso che c'è È che ci stanno altre persone Dobbiamo fare le 20 bombe Sì, vecchio, ma questo è più forte di te Ti rendi Cioè, è molto più forte di te Ha saltato due che in più Ma per fortuna, te lo assicuro What? Perché ha pingato? Zio, che ha pingato una persona magari Non so No, no, ha pingato Spero che abbia pingato l'oggetto Non penso che abbia un hack del genere, onestamente Ok, spero non ci sia una persona là Però l'ha pingato Ha pingato un qualcosa a 400 metri Ragazzi Oh! No, c'è un player qua davanti Non è vero Non l'ha pingato là, vero? No, no, no Era in quella direzione Era in quella direzione La direzione sì, ma non era Ok Non so se No, ragazzi Vi prego, ditemi di no Vi prego, ditemi di no Allora, io voglio andare là velocissimo Con il rampino Se ci stanno persone là Io me ne vado, non sto scherzando È appena ucciso C'era una persona, idiota Ok, nella direzione Ma lui ha pingato proprio una cosa in particolare Ok, allora Ti dico solamente che lui ha messo un ping a sprofondo stantio, ok? Pure, da un'altra parte E hanno riftato a sprofondo stantio, fra No, wei Hanno riftato a sprofondo stantio No, vecchia assurda sta roba Regà, un like adesso, mi raccomando Perché qua No, Ferro, devi tornare da lui Devi tornare da lui Ok Devi correre da lui Sto correndo, Azzo Guardalo, guardalo Guardalo, no, no Oddio Ah, sono tornati a prendere la scheda, ok? Ok Ok, io ci stanno altre persone qua vicino a me Quindi, vabbè, corro, corro, corro Ok, ok Diciamo che l'ha distrutto Ha finito i colpi della mitraglietta Se non l'avrebbe già ammazzato, probabilmente E tra l'altro lo prende mentre Lo prende mentre lui usa il rampino, capito? Come se fosse nulla, giusto? No, regà Basta, c'è veramente, Ferro Ma chi hai portato? Da chi l'altro? No, ma non hai capito? Non ha sbagliato uno dei colpi che ha sparato Ma cazzo Vai, ma com'è possibile? Ti ho messo un altro ping A 200 metri Aspetta, mi ho vicino, eh Se c'è qualcos'altro di strano Tipo per sono così Me ne vado Perché O è un intuitivo Cioè, ha sparato a caso davanti al ping Allora, sentito No, no, hai capito? C'è le persone al ping Ci sono player al ping Stanno venendo verso di noi adesso Precisa al ping Eh, erano precisi al ping Adesso ci stanno spostando C'è uno qua Ti dico solo che l'ha sparato lì Non è vero Non è vero, oddio Ragazzi, potremmo aver tratto Veramente qualcuno di Oh Il re Ok, questi sono fortissimi No, non hai capito Eh, fortissimi Guarda, ne ha già disintegrato uno Ma gli ha disintegrato uno Gli ha disintegrato uno Oddio, però gli hanno fatto del danno Eh, attenzione C'è a Jug Jug Stanno sparando in tre posti differenti Stiamo spettando uno dei player più forti Che io abbia mai spettato, signori È per questo che voglio lasciare un bel like E condividere il video con i vostri amici Per fargli vedere la forza di Azzo Che non sia riuscito a fare i Jug Jug E vi riuscisse a fare almeno le cittine, ragazzi Fai un player anche da me Oddio Cosa ha fatto? Oddio Oddio Ma un headshot fuori di testa Frate, fuori di testa Ok, cioè Io non ho Non ho capito come fa a prenderlo Ok, io mi tiro il Jug Lo vado subito ad aiutare Un attimo, Azzo Ma ci sta un altro team ancora Eh, sì È una situazione un po' del cacchio Posso dirlo? Comunque Azzo si sta facendo il Jug Ferro Tu rimani un attimo Allora, ci stanno due team qua Non uno Due Vabbè, questi qua hanno veramente voglia di morire Dalle mani di Azzo, capito? Ok, Azzo Hai già risalito, eh E non ho capito bene che cosa abbia fatto Ma ha fatto qualcosa di strano e molto figo No way No way Questo è suo primo miss Frate, questo è suo primo miss Ok, meglio così Eh, vabbè Eh, vabbè No, eh Fra, questo qua c'è la Tommy Gun C'è la Minigun Ma non ci credo Vabbè, pure l'aiuto però Oddio L'aveva distrutto L'aveva distrutto Sì, sì L'aveva distrutto, regà GG Perazzo Ferro L'Oressi Se l'Oressi Avete le venti bombe Ve lo dico Nesco, nesco Nesco Se l'Oressi Avete le venti bombe Sicuro Ok, distrutto un altro No, no, no No, no Ferro Non morire adesso, gazzo Non ha troppa vita per darti un mano Letteramente però Gli ho distrutti Cioè, entrambi Ok, c'è E poi c'è anche un altro team Capito? Oddio No, vecchio Comunque pure io devo mettere una cosa Sì, ma sai che Io te lo giuro, eh Potrei mettermi a far tornei con Azzo Perché è assurdo quanto Siamo fortissime Fermo No way Ok, fatevi distacchire, raga Fatevi distacchire, raga Che così è riuscito ad andare strananti, eh Oddio Che come è il Tato Come è il Tato Come è il Tato No way L'ha distrutto pure lui per l'attenzione E io lo mandrallo Eh, beh, beh, beh È una hit clamorosa, ragazzi Questa è una hit davvero e proprio aimbot Tra l'altro 8 persone rimanenti 16 kill Buttate giusti 20 bombe, raga Buttate giusti 20 bombe Io voglio ripetere una cosa A tutti Io intanto gli ho fatto un airshot assurdo Quel tizio borino là col caccia E l'ho pillato uno Allora, voglio proporre una cosa Secondo voi, allora È aimbot Oppure una mira letteralmente assurda Voglio, voglio saperlo Nei commenti Scrivetelo, per favore È una bella sfida, raga Cioè, tra mira e aimbot È una bella sfida Perché ha veramente una bella mira Che sembra quasi aimbot Attenzione Sta ripucciando il ferro Devi andare da lui immediatamente Eh, io sono praticamente sotto Qua ne avevo appena killato uno Comunque Gli avevo fatto due quaranti Poi è bello Poi lui è proprio No L'albero là Tipo stratanto Gli ha costitato una hit l'albero Ti giuro gliela ha bloccata No way Ma poi ragazzi Spara Lui spara profusione Lui spara profusione Cioè, proprio Non smetto un secondo di sparare Vedo Ok, ok Quando poi fai le hit così di caccia Non ha senso Capito che non ha senso Olè Ucciso uno Let's go Ucciso dietro il muro No No, no, no Sono in box di un tizio È fortissimo questo Eh, ma Azzo è più forte Capito? Cioè, capito Molto più forte Azzo, rebutta ferro Rianima ferro No, non è vero Lui pusha Ok Allora Eh, di se si pazza A volte pushare potrebbe essere Strana come cosa Cioè, non troppo intelligente Ma Ora non è intelligente Punto, Azzo Cioè, devi Devi saper di killarlo Ah Ah Ok Headshot Ok Ci sta Qui abbiamo le 20 bombe assicurate E Cosa devo dire, Ferro? Dimmi Nulla Vieni a riusarmi A tutti Prego Non devi dire nulla Ha fatto tutto lui ragazzi Un like di nuovo adesso Per questa kill E di nuovo codice Refe E balla pure Lui balla pure Balla Allora, Ferro Io ti dico che Azzo sta guardando un po' Ha sparato Dove? Ha sparato A una montagna Ok A una montagna? E ha sparato anche a un altro albero Putta In che senso? Azzo, cosa stai facendo? No, allora Se per sbaglio c'è gente È impazzito È impossibile Non ci stanno persone qua dietro È letteralmente impossibile No, sta sparando di nuovo In una direzione E dov'è che è sparato? E sta sparando Ha sparato dietro questa montagna Dove però non c'è gente Mi sembra Oddio Oddio Non mi dire che è così eh Non mi dire che c'è veramente gente Guarda, guarda Ma che fa? Fra c'è la visuale che fa scatti a volte eh Ma che Cosa vuol dire sta cosa? Aiuto Cosa sta facendo? Azzo Azzo che stai a faccio? Eh, lo sai Cos'è? Cos'è sta visuale raga? Ferro tu non lo stai vedendo Quindi non riesci a comprendere No, non riesco a capire infatti Tipo È come se traccasse la gente Capito? C'è proprio come se lui stesse straccando In questo momento delle persone E quindi per questo gli dico Che lui ha sparato in questa direzione Dove siete adesso E se per sbaglio c'è gente In questa direzione E impazzisco, capito? Oddio Non è più che altro Ma non è che hanno fatto una skybase Perché non ci No way Fra Fra la visuale di Azzo Prima partita tutta in alto Ma stai scherzando? Non sto scherzando la visuale di prima partita tutta in alto Raga Replay adesso Ve lo metto adesso Replay Raga Hanno fatto la skybase Io vi posso dire una cosa raga Dai li facciamo scendere Poveri Fateli scendere Esatto Fateli scendere raga Ballate Ballate Ma a questo qua c'è il cecchino Non ci conviene ballare Ci conviene al massimo Che scendano velocemente Se no li facciamo cadere davvero Se no scendono in fredda Li facciamo cadere Perché sono effettivamente un po' Tanto ragavranno sicuramente Fate di cadere Tanto ragavranno sicuramente le cose lì Che non li fanno morire Ti prego ditemi che hanno le cose per cadere Oddio l'ha presa in volo Oddio l'ha presa in volo Non è vero Non è vero Non sto scherzando E prova anche il no scoop Che vabbè Però ci sta il no scoop È un po' difficile da prendere What the fuck boy Penso che dovrà farsi un 3 contro 1 No vecchio Allora se lo fa è un miracolo Ok ma piano Stanno già Stanno già riputando Stanno già riputando Stanno già riputando Esatto Ok Gli sono tornati sopra ragazzi Gli sono tornati sopra Ok nulla Un titolo confermato Almeno gli do un'occhiata pure io Orco Mamma mia ragazzi Questo qua l'ha riwampompato Ma stai scherzando Azzo Ma chi sta No vecchio comunque è veramente forte Dico soltanto che Il clutch è una delle sue cose classiche In che senso una delle sue cose classiche Ah no Perché Alain Cioè letteralmente si Ha una mira assurda E classica spesso Sì 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 Ragazzi oddio No ne ha uno dietro Oh mio dio Questo qua è quello che aveva atterrato prima Da questo ci muore per forza No non ci può morire Non ci può morire ragazzi Oh mio dio Bella hit Era importante Mamma mia quanto è forte comunque Bro è proprio forte Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Azzo Oh mio dio cosa ha fatto Azzo non lo fare Azzo non lo fare Zio Ah praticamente È uno contro uno È uno contro uno È uno contro uno Non ci credo Stanno ancora andandosi a rebuttare No È un po' di stare L'ha sentito grazie all'Aimbot Per forza Aimbot Non è vero Secondo me impazzisco No way L'ha beccato in pieno Ah ok Trappato C'è boxato No way Ragazzi è proprio forte Ma che cosa significa sta hit Ma era dietro il muro Ma come mi spiega sta hit Per favore No ragazzi per favore Spiegatemi voi questa hit Perché Vabbè Vabbè poi Niente ragazzi Ha deciso di andare in god mode Ok Allora A 470 di mazzo Cosa sta facendo No No vecchio Ok Che cosa ha fatto Ok Stavo tipo sparando No way Abbiamo 21 kill Una win Con 21 kill Sarebbe top Oh mio dio A 400 di mazzo Comunque hai palesemente visto Che quel colpo L'ha tirato Da dietro il muro Non l'ha mai preso Non l'ha mai Cioè io non l'avevo neanche visto Capito qual è il problema No 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 Tralascia quella Ha fatto un colpo adesso A caso Mirando in alto Dove ci stava il tizio Ma non poteva beccarlo E ha palesemente dietro il muro Ma tipo l'ha mirato Come se sapesse dove fosse No 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 way No Così no eh Così no eh 40 di vita Non voglio dirlo Non dirlo allora Non voglio dirlo Non dirlo Mi sa cazzo È palesemente spacciato Ok fermi No Oh no No Passano tutte le strutture No No Ragazzi comunque È stata una partita Veramente clamorosa Ok Cioè Confermo Secondo me Era qui Alla in botto Oppure no Sto ragazzo Mi sto chiedendo Allora Te lo posso dire Io refse alla in botto Oppure no In che senso Allora Oddio Sì puoi dire Gli altri commenti Tanto già l'avranno scritto La loro supposizione Ti dico soltanto Che in realtà Lui non è uno Con lane bot Ma è semplicemente Il mio duo mate Ed è legal Cioè è proprio illegale Lui si allena Per avere questa mira Ed è un pro player Assurdo ma proprio Fenomenale È fortissimo Se questo è una lane bot È veramente fortissimo Sì però non hai capito una cosa Era la sua prima partita del giorno Era appena tornato da scuola Poverino Dovresti testarlo una volta In allenamento serio Allora ragazzi Io vi dico che è 10.000 5.000 like Non esageriamo 5.000 like E rifaremo un video con Azzo Ragazzi Però questa volta Da caldo Da caliente Da mucho calor Detto questo ragazzi Mi raccomando Nel negozio Getty Come sto facendo io In questo momento Andate ad inserire il codice REFE Per supportarmi Al massimo Signori Mi raccomando Codice REFE Sempre per sempre Nel shop Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Perché al prossimo Questa è tutto Bella raga